Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video ed oggi amici miei come potete vedere ci troviamo su un'altra guida di Starfield pronti e carichi, carichi come la nostra Lidia che ha deciso oggi di dirigersi verso la città di Achilla City per andare a recuperare due oggetti unici come state vedendo quest'arma e anche un uniforme da vice ranger. Come fare tutto ciò? Non vi resta che mettere un like, un commento, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi altri video. Prima di tutto come arrivare ad Achilla City? Semplice, andando avanti con le quest principali, il nido vuoto, arriverete a questa città. Attraverso il sistema solare di Keyenne potete arrivare al pianeta di Achilla. Una volta atterrati ci sarà questa guardia, questa guardia di sicurezza a fermarvi. Vi si attiverà la missione, la prima missione per entrare a far parte del collettivo Freestar. Questa è una delle tante fazioni presenti all'interno di Starfield. Prima cosa, dovete andare a parlare con Daniel, lo sceriffo della città. Parlerete con lui, ci sarà una piccola missione da svolgere perché ci sono delle persone all'interno della banca che stanno creando dei problemi. Potete scegliere il modo di approccio per la missione, sono riuscito a persuaderli, quindi non è morto nessuno, non è successo nulla. Completato la missione, il nostro amico Daniel, questo sceriffo di nome, se non ricordo male, Blake, vi dirà ora di raggiungere il bar della città. Salite sopra e parlate con la vostra nuova amica, Emma. Emma vi darà da fare la prima missione prima di entrare effettivamente a far parte della fazione. Dovete andare a questo computer e attivarne una qualsiasi. Scegliete voi. Io ho attivato questa qui perché ho voglia di combattere con la mia bellissima navicella per testarla, quindi la missione mi dava l'obiettivo di distruggere una nave, fermarmi, avvicinarmi, attraccarla, salire a bordo, per quale motivo? Per uccidere tutti quanti i nemici che stavano lì, erano tutti dentro la sala di comando perché c'era una persona da salvare. Questo piccolo individuo, questo capitano, da liberare e salvarlo. Una volta è completata questa missione, automaticamente andrà avanti la quest principale del collettivo Freestar che vi dirà di tornare da Emma. Emma a sua volta vi dirà di seguirla fino ad arrivare davanti al nostro amico Daniel che vi ringrazierà, vi dirà ok ora siete parte di questa fazione dandovi soprattutto l'arma, come state vedendo, che avrà un mirino laser molto interessante e in più l'uniforme, l'uniforme da vice ranger insieme a un distintivo che potete utilizzare tranquillamente anche in alcune linee di dialogo. Io con questo amici miei vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi ricordo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!